Persio, Aulo Persio Flacco. Mentre facciamo questa spiegazione di letteratura latina, ascoltiamo il quarto movimento della Sinfonia numero uno in re minore di Giuseppe Martucci, mosso e allegro risoluto. Persio è un altro intellettuale, un letterato significativo dell'età di Nerone. Bene, prima di parlare tuttavia di Persio, bisogna dire una cosa, che Persio è uno scrittore di satire. Lui, esattamente in linea con Lucano, è un nostalgico di un altro periodo, insomma, del periodo precedente della storia romana, soprattutto quello che affonda agli inizi della storia, della cultura romana, quando la gente si comportava in un modo diverso da come si comporta adesso. E quindi è un severo critico dei costumi e della morale del suo tempo, quindi del tempo dell'impero, dell'età di Nerone, dicevamo. Durante l'età Giulio-Claudia si assiste ad una, come dire, degenerazione, ad una tirannide caratterizzata dalla corruzione e dal vizio. Eliminata la libertà, si è trasformata la pax romana in un imperialismo avido e ingiustificato, soprattutto questo agli occhi di questi letterati, che appartengono a quest'elite aristocratica nostalgica. Il rapporto tra gli intellettuali, i princeps, si incrina. La letteratura viene definita argentia perché non produsse grandi capolavori del periodo augusteo. Questo lo vediamo anche se confrontiamo le satire di Orazio, che era un poeta classico, quindi dell'età di Augusto, e le satire di Persio, che risentono di questo clima profondamente cambiato. In questa situazione, infatti, si inserisce la satira di Persio Flacco, severamente moralistica, con violenti attacchi diretti contro il malcostume dilagante della società, sempre più corrotta. In contrasto con l'ideale stoico della Virtus, anche Persio, infatti, ha una formazione dallo stesso filosofo anneo cornuto che aveva formato Lucano, quindi una formazione stoica, ecco, nella linea dello stoicismo, come Seneca, come Lucano. Questo ideale stoico della Virtus, che è in contrasto con quella che è invece l'abitudine del tempo, in modo di comportarsi il malcostume, dicevamo, della società del tempo. Allora, lo scrittore si pone come maestro di virtù, spietato censore dei vizi sociali. Il giovane poeta utilizza un impasto linguistico assolutamente inedito, che non ha precedenti né imitatori né la letteratura latina. Ecco il motivo per cui, insomma, le satire di Persio risulteranno particolarmente difficili da comprendere. Perché è estremamente originale. L'effetto complessivo è ermetico, cioè, diciamo, quasi incomprensibile, misterioso, insomma. Non si capisce bene. L'espressione contorta è oscura fino al limite dell'indecifrabilità. Ecco, quando parliamo di satira, dobbiamo ricordare che la satira, così come la intendevano gli antichi, è qualcosa di diverso rispetto alla satira, così come la intendiamo noi. Per gli antichi la satira era un genere letterario, poetico, quindi scritto in versi, mentre per noi oggi è qualsiasi attacco a personaggi detentori del potere politico, sociale e culturale, critica al potere. Quindi oggi come oggi non corrisponde affatto ad un genere letterario. Anzi, oggi è praticamente impossibile mantenere una definizione della satira come di genere letterario. Inoltre, con la diffusione delle tecnologie digitali... Sì, sì, prego, prego. Venga, venga, venga. Dicevamo che la diffusione delle tecnologie digitali internet gioca un ruolo sempre più importante nella diffusione di messaggi satirici, pertanto oggi potremmo parlare di satira in modo molto più generico rispetto a quello che era la satira per gli antichi romani. Era un genere letterario, iniziato da Ennio, anche se di Ennio non ci rimangono frammenti delle sue satire, da Lucilio, considerato il vero e proprio fondatore del genere letterario della satira, portato all'apice da Orazio nell'età di Augusto e nell'età imperiale vedremo appunto Persio nell'età di Nerone e Giovenale. Infatti, in età imperiale la satira trova due cultori, in Persio e Giovenale, pur operando a quasi 50 anni di distanza. Il primo, Persio, scrive nell'età di Nerone, quella che noi stiamo studiando adesso. L'età, abbiamo già detto, anche di Seneca e di Lucano. Mentre il secondo scrive sotto Traiano e Adriano. Le loro satire presentano però dei punti in comune, delle analogie, innovazioni comune, comuni che li allontanano dall'impostazione luciliana e oraziana. Quindi sono quattro gli autori di satire latine, ricordatevi, no? In ordine storico e cronologico, Lucilio, Orazio, Persio e Giovenale. Persio e Giovenale scrivono per un pubblico indifferenziato di lettori e ascoltatori, mentre Orazio si rivolge alla ristretta cerchia di amici del circolo di mecenate. Persio e Giovenale si atteggiano a censori del vizio dei costumi, assumendo spesso i toni dell'invettiva. Orazio si scaglia contro i comportamenti, ma non contro le persone. Presentando anche se stesso come lontano dalla perfezione, le satire di Orazio risultano un po' più equilibrate. Quindi non c'è questo livore che caratterizza le satire di Persio e di Giovenale. Non c'è questo moralismo, se vogliamo, che è tipico della satira nell'età imperiale. Si mette in gioco anche lui stesso, anche ironizza di più, insomma, Orazio rispetto a Persio. Persio e Giovenale usano uno stile atto a impressionare il pubblico, mentre Orazio usa uno stile sobrio, misurato, anche se non privo di vivacità. E' proprio, abbiamo visto, uno scrittore classico caratterizzato da un equilibrio, anche formale. Chi è Persio? Aulo, Persio, Flacco, ma nasce a Volterra, in Etruria, nel 34 d.C., da una famiglia equestre. Riceve a Roma la sua formazione grammaticale e retorica. Grammatica e retorica, studiò con ottimi maestri. E, soprattutto, per quanto riguarda la filosofia, sotto la guida di Anneo Cornuto, si accosta allo stoicismo. Frequenta ambienti e personaggi ostili al regime neroniano. Per esempio, era molto legato ad un senatore, un certo Trasea Peto, che era stoico, anche lui, che lo condusse con sé in alcuni viaggi, ed era fortemente antiimperiale. Muore giovanissimo, come Lucano, abbiamo visto, ha morto anche lui molto giovane, solo che Lucano muore perché è condannato a morte e si suicida. Invece, Persio muore di malattia, allo stomaco, il 24 novembre del 62 d.C. Le sue satire vengono riviste da Cornuto, che era stato il suo maestro di filosofia, e pubblicate dall'amico Cesio Basso. I contenuti delle satire, l'opera di Persio, una produzione limitata, abbiamo solamente sei satire, scrive poco e non pubblica quello che ha scritto. Quindi scriveva e poi trascorreva molto tempo prima che si rimettesse a scrivere, era anche molto lento, forse ha scritto in gioventù una tragedia pretexta, forse un libro di viaggi, i viaggi, per esempio, che aveva compiuto con Traseapeto. Ma dicevamo, noi lo ricordiamo per questa breve raccolta di satire, sei satire per un totale di 650 esametri, sono infatti le satire scritte in esametri, precedute da un prologo in coliambi. I coliambi sono giambi zoppicanti, giambi scazzonti, zoppicanti, insomma un metro completamente diverso, breve lunga, breve lunga, breve lunga, breve lunga, ma anche, dice, zoppicanti, quindi con magari un ultimo verso, che non è un giambo. Si distingue quindi questa parte sia per la metrica sia per il contenuto. Infatti le satire, come abbiamo detto, sono una denuncia sdegnosa del modo di comportarsi degli altri, mentre invece i coliambi sono una dichiarazione di poetica. Allora, andiamo a vedere alla pagina 128 i contenuti delle satire. Prima satire, critica alle mode della poesia contemporanea, in particolar modo al gusto epico tragico. E secondo Persio c'è una stretta connessione fra la degenerazione della poesia, ad esempio della poesia epica, e la degenerazione morale. Qui, comunque, in questa prima satira, lui dice che vuole riprendere le orme di Lucilio e di Orazio, anche quello che hanno scritto gli autori della commedia antica, quando hanno messo alla berolina i vizi dei loro contemporanei. E intanto per incominciare, ce l'ha su in questa prima satira con alcuni poeti della sua epoca principianti, imitatori dell'epoca, appunto, dicevamo, dell'epoca augustea, imitatori però un po' assolutamente non a livello dei modelli. Satira seconda. Nella satira seconda c'è un attacco alla religiosità ipocrita di chi chiede agli dèi solamente la ricchezza. Dedicata all'amico Macrino, affronta il tema delle richieste da rivolgere agli dèi. Bisognerebbe, secondo Persio, chiedere agli dèi doni importanti, come la salute fisica, la virtù. Invece, ci sono molte persone che pregano in silenzio. Dovete sapere, infatti, che presso gli antichi la preghiera, così come in generale la religione, era qualcosa di pubblico, che avveniva, appunto, apertamente, pubblicamente, non in privato. E fanno delle richieste che sono inconfessabili. Certo, se tu fai una preghiera pubblica, devi chiedere delle cose che tutti possano sentire, no? Mentre invece, se tu ti rivolgi direttamente al tuo Dio in privato, puoi chiedergli anche delle cose che nessuno vorrebbe sapere, che tu non vorresti far sapere a nessuno, volevo dire. Insomma, in questo modo cerca di attaccare l'ipocrisia del suo tempo. Nella Satira Terza, un'esortazione rivolta a un giovane ricco dissipato affinché si dedichi allo stoicismo, invece che alla sua vita piena d'ozio e di vizi. Un giovane ricco. Viene quasi in mente una reminiscenza evangelica. insomma, diciamo che è molto più moralista, pesante, persio, e dice, insomma, devi dedicarti alla sapienza, alla virtù, ad esempio, non restare a letto fino a tarda ora, e cercare di seguire i dettami della morale stoica, la sola che può dare senso alla vita. Satira Quarta, sull'importanza della conoscenza di se stessi. Per esempio, c'è un dialogo fra Socrate e Alcibiade, in cui Socrate rimprovera il discepolo perché si occupa di politica, senza possedere la necessaria saggezza. Siamo nell'età della guerra del Peloponneso, e Alcibiade, insomma, che aveva pur seguito le elezioni di Socrate, e poi, invece, si dedicò alla politica, all'arte militare, con risultati dubbi e alterni. La seconda parte, invece, è un'esaltazione a coltivare la pratica dell'autocoscienza, non criticare continuamente i vizi altrui senza aver prima conosciuto a fondo il proprio animo. Poi, però, di fatto, nel resto delle satire, Persio critica i vizi altrui. La Satira Quinta, dedicata a Cornuto, quindi al suo maestro, il tema principale è la libertà secondo la dottrina stoica, la libertà d'animo, scopo della ricerca filosofica, anche se nella prima parte di questa satira aveva ancora una volta rimproverato ai poeti del suo tempo di essere incapaci, insomma, di scrivere grandi testi di epica e di teatro, di tragedia. Nella Satira Sesta, che è anche l'ultima, si scaglia Persio contro l'Avarizia, esorta a usare i beni con moderazione. Indirizzata all'amico poeta Cesio Basso, che sarà poi quello che pubblicherà il suo libro di Satire, una specie di lettera in cui appunto rimprovera il vizio dell'Avarizia, ma anche quello della prodigalità. Insomma, bisogna ricercare un giusto mezzo fra l'una e l'altra. Sembra, se volete, abbiamo trovato in questa Satira Sesta, così come in quella Quarta, alcuni dei temi tipici anche delle Satire di Orazio. Anche Orazio aveva parlato di moderazione, anche Orazio aveva parlato di conoscenza di sé, ma ovviamente Persio lo fa in un modo più esasperato e Orazio in un modo più equilibrato. La scelta della Satira è per Persio l'esito della sua adesione allo stoicismo, la sua pessimistica concezione della realtà. Cioè c'è un modello, che è quello della filosofia stoica, da cui sono lontani tutti gli uomini del suo tempo, si può dire. La poesia è lo strumento per smascherare e combattere la corruzione e il vizio. Esprime attraverso le sue poesie la ripugnanza verso i vizi della sua età. Di conseguenza la figura del satirico non si presenta con i tratti di un amico garbato, come accade nelle satire oraziane, ma con quelli del predicatore diatribico, la diatriba, no? Quindi il filosofo austero che vuole a tutti i costi appunto segnare una via, una strada, dalla quale purtroppo però sono lontani tutti quanti gli altri uomini, o del medico che deve risanare con un intervento chirurgico, radere, i pallentes mores, cioè i costumi malati della società. Quindi il bisturi del medico satirico è l'ingenus ludus, lo scherzo non volgare, rappresentato appunto dalle satire di Orazio. Ecco, scusate, no? Torniamo un attimino indietro se riusciamo, perché non so se ce la facciamo. Volevo un attimo fermarmi a parlarvi dei coliambi. Che cosa sono i coliambi? Abbiamo detto sono questi versi che precedono, fanno da prefazione ai libri delle satire di Persio. Ecco, in questi versi lui spiega a chi è il ruolo del poeta satirico, rifiuta qualsiasi tipo di ispirazione divina e sostiene la validità della poesia satirica in quanto più aderente alla realtà. Dice infatti, in questi versi, leggiamo la traduzione di Barelli, non ho mai bagnato le mie labbra alla fonte del cavallo. È la fonte, insomma, del monte Licona dove c'erano le muse della poesia. Non sono mai stato un grande poeta. Ne mi ricordo di aver mai sognato sul Parnaso delle due cime. Sono le due cime del Parnaso, una dedicata ad Apollo e una alle muse per diventare così improvvisamente poeta. E le muse abitatici dell'Elicona, la pallida Pirene, la fonte sull'acropoli di Corinto, aveva lo stesso ruolo, cioè di fonte di ispirazione poetica, lascio a coloro alle cui immagini si abbraccia la flessibile edera, quindi che vogliono essere incoronati con l'edera. Infatti i busti dei grandi poeti erano incoronati di edera. Ma se nella mia rozzezza poeta per modo di dire io sono, porto tuttavia i miei carmi alla festa dei vati. Chi ha suggerito al pappagallo il suo salve e chi ha insegnato alla gazza come riuscire a ripetere le nostre parole il maestro dell'arte il donatore dell'ingegno il ventre abilissimo nel imitare anche quelle voci che la natura ha negato. Addirittura qua diciamo fa la sua dichiarazione di poetica in cui spiega che i suoi versi addirittura sono ispirati dal ventre, dal venter, scusate ho sbagliato volevo dire non i suoi versi ma i versi dei poeti in genere sono ispirati dei poeti del suo tempo sono ispirati dal ventre quindi dal bisogno dell'abilità di guadagno ebbene lui vuole prendere le distanze dai poeti del suo tempo ma se balenerà la speranza del fallace denaro potrai credere che i corvi poeti e le gazze poetesse cantino un canto dolce quanto il nettare di petaso il Pegasius Nectar insomma ancora una volta si riferisce a cavallo come aveva fatto all'inizio di questi coliambi insomma saranno loro cioè i poeti della mia epoca ad essere attratti solamente dal denaro fallace e quindi cercheranno loro di comporre poesia invece non faccio poesia io faccio satira che è una cosa diversa spesso all'atteggiamento aggressivo si aggiunge però l'amarezza di chi non riesce a imporre il proprio punto di vista su una realtà irrimediabilmente corrotta l'impossibilità di incidere sui costumi corrotti dell'epoca fa sì che il poeta si concentri su se stesso la sua scrittura divenga spesso una sorta di monologo confessione che abbozza un itinerario personale verso la saggezza l'automiglioramento però a differenza di quanto accade Orazio è perseguito in solitudine e in opposizione al resto della società cioè Orazio proponeva un automiglioramento che tutti soprattutto quelli appartenenti al circolo di mecenate potessero seguire invece Persio fa un suo itinerario personale che è diverso da tutti quelli della sua epoca che non possono seguirlo ecco vediamo per esempio un brano tratto da una satira di Persio in cui Persio fa riferimento ad Orazio dice infatti siamo alla pagina 133 già l'inverno ti ha fatto accostare o basso al focolare della tua villa sabina già si animano al tocco del tuo plettro severo le corde della lira o meraviglioso artista nell'adattare ai ritmi le antichissime voci e nel ricavare virili armonie dalla cetra latina e insieme vecchio straordinario nel cantare i giovani scherzi d'amore e nel celiare scherzale con tono delicato qui ora intiepidisce per me la spiaggia di Liguria e sverna il mio mare dove gli scogli formano un'ampia fiancata e la costa si ritrae in un vasto seno di lune il porto ebbene che voi conosciate o romani qui è riportato un verso di Ennio comanda il saggio Ennio dopo aver sognato russando di essere diventato dal pitagorico pavone quinto meonide qui me ne sto assicuro delle chiacchiere della gente senza preoccuparmi di quel che prepari l'austro funesto ai greggi ecco dice in questa satira quello che abbiamo detto prima come decida di appartarsi dalla società di isolarsi è del tutto tranquillo anche se il terreno del mio vicino è più ferace e più fertile del mio anche se proprio tutti coloro che sono di origine più modesta arricchissero io non invecchierei certo per questo incurvandomi anzitempo né mi ridurrei a cenare di magro e a sfiorare con il naso il sigillo di una bottiglia inaridita ecco come vedete in questo brano Persio che si trova a Luni spiega in lunigiana quindi regione che come ben sappiamo è tra la Liguria lui la chiama così Liguria tra la Liguria e la Toscana perché oggi sappiamo che la Lunigiana è più che altro in Toscana ebbene questo fatto lo induce Persio a ricordare con una ironia il sogno da cui Ennio apprese di essere la reincarnazione di Omero e quindi come vedete è molto ironico molto strano molto particolare Persio infatti lo stile di Persio flacco molto aspro con espressioni oscure misteriose immagini prese da l'una dall'altro in modo dicevamo piuttosto talvolta misterioso e oscuro volevo far scomparire questa barra ma non ci sono riusciti di far far scomparire questa barra non lo so va bene non riesco neanche ad andare alla alla diapositiva precedente oh finalmente ci sono riuscito allora andiamoci alla diapositiva precedente è quella sullo stile di Persio che si contrappone evidentemente a quello di Orazio infatti qual è il suo stile espressioni oscure abbiamo detto linguaggio quotidiano talvolta persino volgare venter abbiamo visto dei coliambi però messi insieme a tantissime altre immagini eccetera che rendono oscuro il significato non è dunque la lingua di cui si serve ma il modo in cui la rielabora a risultare del tutto originale qui abbiamo l'utilizzo dell'acris iuntura se per Orazio abbiamo parlato della callida iuntura qui all'opposto potremmo parlare dell'acris iuntura cioè l'accostamento di parole d'uso comune poste però in un rapporto logico del tutto inusuale della frustrazione dell'attesa che consiste nel creare un'aspettativa nel lettore per poi deluderla di proposto questo di questa frustrazione questo è tipico del modo dello stile insomma di perso dell'alternanza di registri linguistici lo scopo di queste scelte stilistiche è quello di detrare pellem teneris auribus cioè strappare la pelle alle tene orecchie vuole cioè strappare il vero del perbenismo ipocrita tipico appunto del suo tempo del rispetto delle convenzioni sociali del rispetto delle convenzioni sociali è così che copre il vero volto della realtà perso si contrappone quindi risolutamente alle mode letterarie dell'epoca espressione di una degenerazione del gusto estetico mette a punto uno stile capace di aggredire le coscienze per redimerle fondato sulla contrapposizione e l'eleganza fatua delle mode poetiche sulla scelta di parlare dei mores della realtà quotidiana quindi il realismo e sulla deformazione macabra e allucinata del reale la lingua è quotidiana verba toge ma la sintassi è spesso involuta la progressione tematica affidata con mini associazioni di idee su tutto domina la ricerca dall'intura acris cioè l'accostamento lessicale penetrante acris ma anche abbiamo detto un pochettino incomprensibile in alcune parti tuttavia magari per ciò persio ebbe un successo notevole immediato nella sua epoca fu apprezzato da quintiliano che dice infatti addirittura persio meritò una fama grande e autentica seppure con una sola opera fu esaltato anche dal grammatico Probo e dal suo contemporaneo Lucano che era appassionato lettore delle satire di persio perfino Marziale apprezzò persio e poi anche gli scrittori cristiani apologetici ammiravano il suo rigore moralistico ancora per tutto il Medioevo fu apprezzato e persio fu inserito tra i magnanimi abitatori del limbo come sappiamo leggendo il canto ventiduesimo del purgatorio cioè Dante non cita persio nel quarto dell'inferno quando incontra appunto le anime del limbo ma in seguito quando si trova nel ventiduesimo canto del purgatorio se non sbaglio sulla cornice in cui è incontrato Stazio quindi degli avari poi però con l'andare del tempo ad esempio in età rinascimentare un'età barocca fu un po' meno fu svalutato nel senso che lo si riteneva troppo oscuro come probabilmente è invece apprezzato da Parini che si ispirò a lui per alcune parti del giorno da Vincenzo Monti che curò una traduzione completa della sua opera nel simbolismo da Hussmann e Mallarmé che apprezzò proprio l'oscurità che invece erano state condannate dai classicisti persio addirittura risulta una fonte indiretta anche della satira moderna a una fonte una fonte le